Antonio Borsoni nasce nel 1946 a Gravedona, già a 17 anni e diventa campione sociale a Gravedona. Nel 1973 si laurea come campione italiano di Serie A individuale a Boghera. Ha partecipato a parecchi incontri internazionali con la maglia azzurra e conta nel suo individuale palmarès ben più di 100 vittorie ottenuti su tutti i campi più importanti e con i giocatori più qualificati. Antonio Borsoni Andiamo a premiare il primo classificato del torneo di bocce che si è svolto al circolo Caciva di Dongo, il signor Rani Roberto. Un applauso. Rani Roberto, anche l'unico giocatore. La maglietta del nostro evento è la bottiglia di vino dell'Ario Fest. Grazie, grazie di cuore di essere stato con noi.